insomma quasi non l'ho mai visto Gino preparati ma dai giostri arriva facci il via ehi che il vento le porta in là ehi dai vedi così ma dai ma dai che ti chico ma dai ma dai che ti ma zna ma adesso come sei grossato al bordo di 1.0 ogni 30 primi oppure in chiusura su di noi quindi sentiamo, abbiamo un traffico poi verso le 18.00 o 11.00 Impressionante come il vento lo spostai eh! Ah va bene, va bene! E' una figata il DJ! Pazzesco!